Tre errori che potrebbero farti pentire amaramente della scelta fatta sui tuoi nuovi infissi. Ciao, sono William Bisacchi, fondatore di blog bisacchi.it e titolare della Bisacchi Infissi, che dal 1973 si occupa di infissi per abitazioni e ville private. Primo errore da evitare, la sovrapposizione del nuovo infisso sopra il vecchio. La maggior parte dei miei colleghi in ristrutturazione prendono il nuovo infisso e lo installano sopra a quello vecchio. Questo porta dei gravi problemi. Il primo è la riduzione della luce perché le finestre diventano più piccole. La seconda è che devono mettere dei coprifili molto grandi per coprire il vecchio serramento e quindi la casa diventa più brutta. La terza conseguenza è che fissare un nuovo infisso sopra quello vecchio che nel tempo si infradicerà, diventerà vecchio, porterà infiltrazioni ed i possibili movimenti e quindi regolazioni e manutenzione continua. Con il sistema Bisacchi, la sovrapposizione è qualcosa che non facciamo, noi andiamo infatti sempre a rimuovere il vecchio serramento. Secondo errore da evitare, richiedere preventivi via mail. So che all'inizio può sembrare un'ottima idea, ma così facendo, se si ha a disposizione un'azienda professionale come la Bisacchi, si va a perdere la possibilità di ricevere una consulenza gratuita e quindi di avere a disposizione un consulente che ascolta le tue esigenze, ascolta i tuoi obiettivi e guarda il tuo progetto e ti consiglia le soluzioni migliori tagliate su misura per te. E questo è quello che avviene con il sistema Bisacchi. Terzo problema, sottovalutare garanzia e assistenza. Io vedo tanti preventivi di infissi dove non viene mai nominata la garanzia. Eppure gli infissi costano tanto, costano diverse decine di miliardi di euro. A volte abbiamo cantieri di ville molto importanti dove costano anche 100, 200, 300 mila euro gli infissi. E come si può pensare di spendere tutti questi soldi senza avere nulla in mano che parli di garanzie? Per noi è inconcepibile, infatti nel preventivo, nero su bianco, scriviamo le nostre tre garanzie. La garanzia dei costi certi, la garanzia sulla posa in opera e la garanzia del controllo gratuito che eseguiamo entro 24 mesi dalla fine dei lavori. Se anche tu vuoi essere seguito da dei professionisti, vuoi essere aiutato attraverso la consulenza e vuoi avere le tre garanzie sul risultato finale, compila il form che trovi qui sotto e ti contatteremo entro 24 ore.